Giovedì 12 settembre alle 18 parte la rassegna Giovedì a Castello, letture d'arte, 5 incontri, l'ultimo il 10 ottobre, con l'arte e l'armonia al Castello Ladislao di Arpino. La Fondazione Umberto Mastoianni dà voce agli studi di Marco Bussagli, professore, docente universitario e artista. Noi partiamo dalla bellezza delle piccole cose che ci racconta Vermeer nel 600 e poi piano piano prendiamo la scala verso i grandi valori dell'arte e dell'esistenza e quindi ci occupiamo di Pierola Francesca che è un grande matematico oltre ad essere un grande artista, guardiamo il mondo degli angeli, ci occupiamo del giudizio universale di Michelangelo, sempre in relazione alla ciociaria. Gli studi di Marco Bussagli sveleranno l'etroscena dell'arte con chiarezza e lucidità portando alla ribalta opere che raccontano la storia dell'uomo. Da parte mia posso solo ringraziare il professor Bussagli di questa grande opportunità che ha dato alla Fondazione di essere lo scrigno presso il quale tenere questo ciclo di conferenze. La Fondazione Mastroianni si dimostra ancora una volta pronta ad aprire le porte alla cultura, volano di crescita per l'intero territorio frusinate. Riteniamo che questo sia l'obiettivo della nostra attività, la nostra missione prioritaria, cioè quello di utilizzare una sede prestigiosa come il cassello di Ladislavo, dove da qualche mese è stato collocato il prestigioso museo di automazione di Mastroianni, per poter favorire processi di crescita che nella nostra provincia credo siano più che salutari. La provincia mette a disposizione di questo grande artista e di questo devo ringraziare il Presidente Antonio Abbate, il Castello Ladislavo, che è una delle eccellenze, delle tante eccellenze che abbiamo nella provincia di Frosinone per diffondere cultura.